Allora, cerco di indirizzare i miei allievi sull'utilizzo delle pentatoniche, ma anche delle scale semi pentatoniche, che sono scale di 6 note. Per ipotesi, sulla scala di C maggiore io evito il quarto grado, che suono questa scala, che funziona sul primo grado, sul terzo e sul sesto, mentre quando vado sul secondo grado uso una scala maggiore senza il settimo grado, o anche sul quarto grado dell'accordo, quindi è praticamente una scala di C maggiore senza la nota B. Allora, ho un fraseggio che è simile al fraseggio pentatonico, però è un po' più identificativo nei confronti di una progressione tonale, per esempio.